Salve a tutti, allora volevo dirvi anche questa cosa, per chi non sapesse Van Gerwen non sarà più nella XQ Max, c'è stato un messaggio della XQ Max che ringrazia Van Gerwen per tutto quello che hanno fatto insieme e quindi Van Gerwen cambierà sponsor di freccette. Allora ragazzi io non so dirvi se questa cosa è vera o meno, però ho scoperto questa cosa, sono andato sul sito della Red Dragon e ho trovato questa cosa. Adesso vi faccio vedere, questo è il sito della Red Dragon, andate su Darts, andate su Team Wimau, e qua ci sono tutti i giocatori della Wimau, tra questi c'è Michael Van Gerwen e prima non c'era. Schiacciate, chiaramente in questo momento non ci sono frecce della Wimau, ma chiaramente sono... Allora, io non so che poi c'è ancora lo stemma di XQ Max Dark, però l'hanno messo. Quindi... Uffa, quindi scusate, quindi andrà alla Wimau? Questa è la domanda del giorno, però è apparso lì, capito? Prima non c'era. Se voi andate sul team della Red Dragon non c'è Van Gerwen, ed è lì. Quindi può essere che sarà... Perché l'avrebbero messo? Visto che deve cambiare, l'hanno messo lì. Non c'è ancora niente, ci sono ancora le frecce vecchie, tutte in saldo. Se volete prendermi una freccia di Van Gerwen in saldo, in saldo, a mannetta. Vedete voi, da qualsiasi parte sono tutte in saldo, eh. Su Dark Corner, su tutte le parti. L'ho scoperto per puro caso. Non so se è vero, però l'hanno messo. Perché avrei voluto metterlo? Salute a tutti. Salute a tutti.